Oroscopo del giorno. Martedì, 24 ottobre 2023. Ariete. Amore. Ennesima giornata complicata nei rapporti, perché Venere sarà nuovamente in opposizione. Nemmeno questo sarà un bel giorno per le emozioni, anzi, potrebbero verificarsi in toppi sentimentali. Lavoro. Questo sarà un martedì in cui potrete sicuramente sfruttare l'energia delle stelle a vostro vantaggio. Inizierà finalmente un po' di recupero. Toro. Amore. Equilibrio per le coppie, e per chi è alle prese con una conoscenza tutta nuova. Una giornata che vi piacerà, e che sicuramente potrete vivere con una certa serenità, insieme alla persona che avete al vostro fianco. Lavoro. Occhio al lavoro, e alle energie basse che vi porterà Marte quest'oggi. Gemelli. Amore. Chi è in coppia durante questa nuova giornata del mese potrebbe avere diversi problemi con il suo partner. Venere non sarà vostra amica, e sicuramente non favorirà nemmeno chi è single. Lavoro. Mercurio sarà attivo, e anche Marte sarà dalla vostra parte. Un giorno in cui potrebbero spuntare buone opportunità professionali. Cancro. Amore. La posizione del pianeta dell'amore attiva in vostro favore non potrà far altro che regalarvi un meraviglioso martedì, in coppia e non solo. Pure i single quest'oggi potrebbero avere incontri fortunati e romanti. Lavoro. Energie sempre più in maggior recupero. Un giorno da sfruttare in mille modi possibili con il lavoro. Leone. Amore. Non aspettatevi innamoramenti lampo o passi in avanti importanti con il partner. Non sarà una giornata fortunata, ma sicuramente sarà abbastanza equilibrata nei rapporti. Lavoro. Questo martedì potrebbe essere piuttosto entusiasmante. Con queste stelle, aspettatevi novità in campo professionale. Vergine. Amore. Tutto ok per le coppie, mentre chi è single potrebbe essere particolarmente fortunato quest'oggi. Sarà una giornata con un'ottima posizione di venere in vostro favore. Lavoro. Giove, Mercurio e Saturno, saranno tutti attivi per voi. Uno splendido martedì lavorativo. Bilancia. Amore. Le emozioni di questa nuova giornata di ottobre saranno belle e forti. Sarà un martedì con una posizione di venere favorevole, sia per le coppie e sia per i cuori solitari. Lavoro. Marte vi donerà molta energia e grinta, e con il passare dei giorni andrà ancora meglio. Scorpione. Amore. Sarà una giornata molto interessante in amore, grazie a venere in posizione buona. Chi è in coppia potrà viversi tutte le emozioni con il proprio partner, eppure chi è single potrebbe avere delle sorprese. Lavoro. La congiunzione di Mercurio inizierà a portare sempre di più delle possibili novità e buone notizie sul posto di lavoro. Sagittario. Amore. Venere sfavorevole potrebbe portare delle conseguenze decisamente pesanti nella relazione d'amore, e anche in una nuova conoscenza nel caso dei single. Fate attenzione ai rapporti. Lavoro. Potrete mettere da parte pensieri e preoccupazioni legati al lavoro. Mercurio sarà ben attivo in vostro favore. Capricorno. Amore. Sorprese in ambito sentimentale durante questo nuovo martedì del mese. Potrebbero arrivare nuove conoscenze, e anche dei passi in avanti nelle relazioni già esistenti. Un giorno in cui le emozioni non mancheranno. Lavoro. Occhio a Mercurio, che potrebbe portarvi qualche problemino in ufficio. Acquario. Amore. Il martedì odierno sarà un giorno davvero abbastanza piacevole, in cui le coppie potranno viversi il loro rapporto, con serenità ed equilibrio. Discorso che varrà anche per chi è single, e vuole iniziare una conoscenza nuova. Lavoro. Interessanti novità sono previste per la vostra giornata lavorativa. Pesci. Amore. Ancora intoppi, discussioni e problematiche varie in amore. Questo posizione di venere proprio non aiuterà i rapporti sentimentali, figurarsi chi ancora non è impegnato in una relazione. Lavoro. Potrete gioire sul posto di lavoro, dove grazie a Mercurio, potrebbero arrivare novità e gratificazioni. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. Grazie.